Gli integratori bruciagrassi funzionano davvero? Ciao, sono Luca Dallavalle, il tuo Health and Performance Coach. Se ti interessano le tematiche per il miglioramento della tua forma fisica e l'incremento delle tue prestazioni, iscriviti al mio canale e ricordati che se attivi la campanella non perderai alcun contenuto. Quando si tratta di dimagrire sono molte le persone che cercano una scorciatoia per ottenere dei risultati e a tal proposito sono stati messi anche sul mercato diversi integratori termogenici, cioè che nel linguaggio comune vengono definiti bruciagrassi e appunto promettono di avere una funzione dimagrante. Allora, i termogenici sono in genere un mix di sostanze che contengono caffeina, ginseng, sinefrina, guaranà, capsaicina del peperoncino, cioè tutte quelle sostanze che si è visto essere capaci di dare una spinta, una sorta di accelerata al nostro metabolismo basale. L'idea di fondo è quella quindi di aumentare leggermente il metabolismo facendoci bruciare qualche calorie in più. In genere le sostanze contenute, essendo degli stimolanti, tendono ad aumentare il battito cardiaco e possono avere anche degli effetti sulla pressione arteriosa poiché tendono ad innalzarla. Quindi la prima considerazione da fare è che i termogenici non sono adatti a tutti. in particolare i soggetti che sono ipertesi, cioè quelli che soffrono di pressione alta, dovrebbero assumerli solamente su indicazione medica. Attenzione però perché a livello statistico le persone che sono in sovrappeso e quindi che sono più portate ad utilizzare questi integratori soffrono di ipertensione e molte volte anche senza saperlo. Quindi assumendo questi bruciagrassi corrono il rischio di mettere a repentaglio la propria salute. Quindi una volta in più ti ricordo di controllare o comunque di parlare con il tuo medico prima di prendere l'iniziativa di assumerli se pensi di avere anche un problema di ipertensione. Se invece non hai problemi di ipertensione e vuoi provare ad assumere questi integratori per vedere il loro effetto, devi tenere presenti questi tre punti. Allora, al primo punto è che gli effetti di questi integratori sono modesti. Allora, voglio essere chiaro con te fin da subito. I termogenici non sono la pillola miracolosa che permette di dimagrire a vista d'occhio e magari senza alcuno sforzo. Se già stai seguendo un programma di attività fisica e un regime alimentare mirato alla perda di peso, questi integratori possono dare un contributo per massimizzare gli effetti del percorso che già stai seguendo. Come secondo punto è che appunto gli effetti di questi integratori svaniscono nel tempo. Cosa significa? Che man mano che tu li assumi, il corpo si è abitua al loro effetto e quindi la loro azione sarà sempre più blanda nel tempo. Quindi il consiglio che ti do è quello di programmare quando usarli e soprattutto di usarli per un breve periodo. Altrimenti, se fin da subito del tuo percorso di dimagrimento inizi a prendere questi bruciagrassi magari per accelerare l'effetto del dimagrimento, dopo qualche mese sarà come non assumerli e quindi ti ritroverai un po' a piedi e dover fare tutto senza questi termogenici. Al terzo punto è che gli integratori, quindi anche i termogenici, non compensano i vizi poco salutari. Allora a questo punto si collega al punto numero uno e ovviamente gli integratori non vanno mai presi per compensare uno stile di vita poco sano. Prima di assumere qualsiasi tipo di integratore e in particolare i termogenici, è importante correggere il proprio stile di vita, imparando quindi a gestire la propria alimentazione, a praticare regolarmente attività fisica e anche imparare ad evitare di subire l'azione dello stress. Solamente in questo modo puoi creare una sorta di terreno fertile perché anche questi integratori possono portare a pieno il loro contributo e quindi massimizzare il loro effetto. Bene, direi che ora sicuramente hai le idee più chiare sull'utilizzo di bruciagrassi e sulla loro funzione. Io ti saluto, ti aspetto nel prossimo video e ti ricordo rimani forte, rimani attivo. Ciao!